Per cosa hai fatto a Sammy e Ellis Robinson? Io non c'entro niente con quello che... Io ti ho visto mentre accoltellavi Ellis. Allora non ho potuto farci niente, ma... Cazzo, adesso sì che posso! Porca troia! Non è stata una mia idea, hai capito? Era di Georgie, suo ed il suo vecchio. Loro volevano ammazzarvi, non io. Cosa avrei dovuto fare? Dire di no! Oppure assicurarti che fossi morto. Oh no, ti prego, ti prego! Ti prego, ascolta, ascolta. Solo sarebbe bello se... se mi lasciassi dire almeno una preghiera prima di uccidermi. Prega mentre vai in paradiso. Quando...